ciao a tutti prima di vedere la strategia velocemente intraday di oggi vi ricordo che domani alle 10 abbiamo il webinar di analisi tecnica gratuito ovviamente per iscriversi abbiamo in descrizione sotto il video l'indirizzo allora il trade fatto oggi un intraday con la nostra app sul gold lavorato su time frame molto basso sui cinque minuti per un trade veloce vista la volatilità di questi giorni e su questa candela che una candela chiaramente di stampo ribassista molto ben conformata ho deciso di aprire lo short per quale motivo avevamo innanzitutto una resistenza statica sicuramente evidente e precisa andiamo anche a ingrandire su questa candela dopo la prima che già era una candela ribassista la seconda mi va sostanzialmente a confermare quella che la situazione ea 1809 e 15 ho aperto poi lo short quali altri indizi chiamiamoli così avevamo avevamo sicuramente una divergenza molto chiara anche sullo stocastico quindi vari massimi sulla resistenza erano più o meno a tutto lo stesso livello 1809 20 1809 40 era una divergenza ribassista chiarissima sullo stocastico e anche il momento ugualmente mostrava una divergenza ribassista molto molto chiara quindi una serie di indizi che ci hanno spinto a credere nel veloce ribasso successivamente ho proprio anche come sempre inserito le bande di bollinger per avere conferma che fosse una situazione di eccesso ecco vediamo come appunto la candela precedente avesse proprio precisamente trovato resistenza nella banda superiore di bollinger quindi ecco una serie di elementi ci hanno portato poi velocemente a propendere per lo short che poi è stato chiuso in area 1807 60 circa quindi su questo su questo livello dopo aver rotto la banda mediana che semplicemente poi corrisponde a una media mobile a 20 periodi quindi ancora una volta con elementi semplici di base di analisi tecnica a disposizione di tutti si può fare trading anche in intraday e anche su time frame molto ridotti un saluto a tutti e buon trading